benvenuti benvenuti a questa serata finale della nover jazz festival questa serata eccezionalmente conclusa dalla grande star della tromba internazionale chat baker eccezionalmente accompagnata da un'orchestra da 50 elementi pochissimi minuti sarà qui tra voi un attimo di pazienza un attimo di pazienza grazie 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 dov'è finito se non arriva dentro due minuti salta tutto jazz la parola ti si scioglie in bocca e lui un fa se è capace quando ci vuole ci vuole perché questi americani vengono qui fanno canzini nel studio della mano spiegando i braccio ecco però le dicevo questo spettacolo sarebbe un punto di incontro fra il teatro teatro la prosa e la musica dal vivo è interessante no lei mi dice che non viene nessuno cosa farebbe se suo figlio realizzasse tutti i sogni che lei non ha mai realizzato sarei felice per lui ovviamente ovviamente è giusto è giusto così perché lei che cosa ha fatto signor baker niente io non ho fatto niente addio signor baker chat baker ma di cosa stiamo parlando no 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 Sì. Però è un peccato, dai, no? È un peccato. È un peccato mollare tutto. Ma come tutto cosa? Tutto. Le ricerche fatte, i viaggi, gli incontri, i libri letti, la musica ascoltata. Mollare tutto. Mollare tutto. Mollare tutto è un peccato. Vai con il tuo speedball e quando ti schianterai io non ci sarò! Sì. 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 Grazie.